bella raga, allora, non mi si vuole spegnere computer, infatti resta qui immobile a fare un cavolo faccio start, resta insieme, non succede niente per colpa di RocketDoc, ecco la foto comunque, allora, in questo video vi faccio vedere il nuovo Miiverse che però, per averlo dovete aggiornare il 3DS e poi sul menu vi si aggiungerà questa cosina questa cosina verde vabbè, comunque, dovrebbe esserci qualcosa sulle notifiche diamo un'occhiata il mio computer, intanto, non si vuole spegnere proprio con la spina, ve lo giuro o, scherzo, non me lo resta a sistema 300 milioni di volte perché prima ho avuto un errore vabbè, comunque, allora questo, nuovo giorno a me, vabbè, sì grazie a me sto spazio, non me ne frega Miiverse è ora disponibile è questo praticamente all'inizio dovete registrare mettere un casino di dati personali e poi mettere l'ID è un casino ci vuole un casino per la registrazione comunque non so più di preciso che cos'è allora, lo vedete? vabbè, sì non me ne frega comunque allora, andiamo al menu il mio computer non si vuole spegnere spegniti, deficiente di un computer salare deficiente e sto coso non si vuole spegnere poi viene blue screen ahahahah vabbè, dunque allora, proviamo ad entrare questo omino qui questo qui verde questo qui questo piccoletto e entriamoci vediamo un po' cosa succede ci sono già entrata è solo che io voglio farlo qua del video il cinema adesso e i di ah, le mie mie allora, adesso accesso il corso adesso questo mi verso questo e il mio computer non si vuole spegnere che papà vabbè vabbè un po' l'intuolo via non so come funziona vabbè bellissimo ecco qua fatto cos'è non so sarà tipo qualcosa dei post non lo so ciao, vediamo qualcosa qua ripito attività questo deve essere notifiche in descrizione vi lascio anche il mio codice amico comunque ma perché non si vuole spegnere il computer mi sto spaventando sinceramente eh oh mamma mi fico spegnete ma che cavolo vuole farmi prendere un colpo sto computer però in mente cavolo ma che computer spegnete ti prego ooooh 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 vabbè ci ho appena allora dopo stacco la spina ve lo giuro la spina è lì io la stacco intanto l'ho staccata mille volte comunque passiamo oltre di esse allora ora si possono bloccare gli utenti benissimo allora profilo diamo un po' un'acchiata no niente post proviamo a postarne uno uno ho postato 42 minuti fa allora come si fa a non postare cose allora ecco magari da lì si postano ah no aspetta come cavolo si fa non lo so vabbè non so come si fa attività magari e ma che cavolo non so come si fanno a postare le cose però magari no nemmeno lì preferiti cos'è? c'è un nuovo comunicazione da Miverse proviamo a vedere boh sinceramente non so cosa serve questo programma vabbè ah non si hello again si non mi frega opening of Miverse on Nintendo 3DS we'd like to announce that as of today Miverse is available on L systems in the Nintendo 3DS family to access Miverse on Nintendo 3DS U faccio pena leggere l'inglese ve lo dico comunque boh vabbè non so come funziona vabbè dai vi saluto e al prossimo video che probabilmente sarà un collab insieme a redlove e genna In caso vedervi questo video assoluto Ciao E niente Spegniamo Non c'è una massa da fare Ciao